Come commenta il botto e risposta tra Berlusconi e l'Associazione Nazionale Magistrati? Io credo che Berlusconi stia esagerando, a mio avviso è andato un po' fuori di testa in questo ultimo periodo. C'è la campagna elettorale e amministrativa, ma questo non giustifica l'attacco continuo, il senso eversivo di chi fa il proprio dovere. Ci sono anche degli eccessi all'interno della magistratura, come in tutte le categorie, ma io credo che un attacco così forte dal Presidente del Consiglio sia un atteggiamento non più tollerabile.